Ciao, sono Alessandro. Cerchi uno speaker pubblicitario per la tua azienda? Hai bisogno di una voce narrante per un tuo video? Ti serve la mia voce per il messaggio telefonico di benvenuto? Hai trovato quello che cercavi? Scrivimi qui su Fiverr e troveremo insieme la soluzione giusta per te. Hi, my name is Alessandro. Are you looking for a voiceover for your company? Do you need a narrative voice for your video? Do you need my voice for the telephone welcome message? Did you find what you were looking for? Write me on Fiverr and together we will find the right solution for you.